Alvia la consegna dei golosissimi kit di cioccolato. Si tratta della campagna dell'Associazione Culturale Cinemi Cinema che ha lanciato una raccolta fondi a favore della Croce Rossa per sostenere le famiglie in difficoltà della città di Arezzo. Abbiamo previsto due kit, uno da 10 euro e uno da 15 euro, prenotabile tramite il numero telefonico previsto che è il 324-78-76224 indicando, chiamando o mandando un messaggio, indicando il nome e cognome, il numero di confezioni prenotate e il domicilio perché uno dei nostri volontari, come me oggi, che consegnerò dei pacchi a chi le ha prenotati, li consegnerà a domicilio nel rispetto delle norme dettate per l'emergenza Covid. Il ricavato delle donazioni, esclusi costi di produzione, verrà interamente devoluto alla Croce Rossa italiana, la campagna vuole infatti sostenere l'impegno dei 350 volontari aretini che si sono impegnati in prima linea nell'emergenza sanitaria. Perché la Croce Rossa è sempre attiva a risolvere queste situazioni emergenziali e di disastri. Infatti la donazione, prenotando il kit, poi va ad aiutare la Croce Rossa a distribuire dei pacchi alimentari alle famiglie che si trovano in difficoltà in questa emergenza dettata appunto dal Covid-19. Da dieci anni l'associazione Cinemi Cinema promuove l'omonimo International Short Film Festival, il concorso internazionale di cortometraggi che porta Arezzo nel mondo e il mondo ad Arezzo. Quindi un concorso di cortometraggi rivolto a tutti i videomakers. L'obiettivo è quello di unire le nuove generazioni con il linguaggio universale del grande schermo, del cinema, del teatro, sia come momento formativo che come momento di incontro di culture diverse. Sicuramente questa emergenza ha arrestato anche la nostra attività, ma siamo ripartiti con questo evento di solidarietà e il festival stiamo cercando di adeguarci e quindi sarà possibile eventualmente anche un'edizione online. L'undicesima edizione della manifestazione si svolgerà così online dal 24 al 26 settembre 2020.